Buongiorno, domenica 12 novembre al castello di Grizane Cavour si terrà, attenzione, la diciottesima edizione dell'asta mondiale del tartufo bianco d'alba. In qualità di battitori di eccezione ci saranno Elisa, Isoardi che salutiamo e il mio socio, il signor Enzino Iacchetti. Grande battitore d'asta, complimenti. Io batto, io batto signor Enzio. No, batta l'asta, batta solo l'asta. Ma no, certo, batto l'asta. Dunque, il ricavato sarà destinato come sempre a iniziative sociali e solidali a favore delle persone più disagiate. I miei complimenti da parte di tutti noi per questa iniziativa, il signor Enzino, a correte numerosi e si ricordi degli amici. Mentre lì batte l'asta, battendo l'asta casca giù un petto alle volte. Cosa c'è dopo?